C'è lo stato dove era inima di aczillut, nukwa, aveva chiarificato, è emanato il mondo di bria, cioè il mondo di bria è stata sotto nukwa di aczillut che si trova in ima o in chissut. Sì, noi sentiamo di nuovo, di nuovo, di nuovo, dopo ci ricorderemo di tutte queste cose. Ma non è d'obbligo, la cosa più importante è capire il principio che ci innalziamo in alto nel superiore, quando ci annulliamo davanti al superiore, là diventiamo partecipi in certe azioni. E qui è che faccio a scuola di aczillut che si includerà in ima, che si chiama ora è chissut, allora la malccia di aczillut, includendoci in ima, può portorire il mondo di bria. Allora così si ascolta, qua non c'è nessuna cosa di nuovo, il superiore che si innalza all'inferior diventa come lui, e allora può portorire il parzuf sottostante. E tutto questo è una scuola di aczillut che si trova in il loro luogo, possono innalzarsi, scendere. Non hanno nessun problema, non appartengono alla fermentazione, sono rimasti anche dopo la fermentazione nel mondo di Nikodim, perché Keter e Abba Veima nel mondo di Nikodim, che hanno due capi nel mondo di Nikodim, Keter e Abba Veima. Sono rimasti, il capo non è frammentato, solo che si è annullato dalla Gadlut e ritorna alla Katlut, e il corpo si frammenta. Ora, al posto di quel capo come nel mondo di Nikodim, abbiamo il capo nel mondo di aczillut. Il capo nel mondo di aczillut si divide in tre parzuf, Atik, Arikambin e Abba Veima. Tutto ciò che era nel mondo di Nikodim, che il mondo di Nikodim era frammentato, tutti questi difetti che non può calcolare, la capacità di fermentazione, allora a tutte queste cose di aczillut arrivano la curazione. Qua la curazione di aczillut, non può essere la fermentazione, perché? Perché ogni grandezza che fanno è quando arrivano al superiore. Non è al posto loro, cioè non utilizzano i loro stessi vasi di ricezione mai. Sono di aczillut che sono vasi di ricezione, loro non utilizzano i loro vasi di ricezione, ma solo prendono un'aggiunta e si innalzano. E la caos che è la curazione di SIMD. Ma solo il passano di ricezione, loro non utilizzano i loro vasi di ricezione, però non ha scurito, non ha scurito, le loro vasi di ricezione, ma solo le loro vasi di ricezione, ma solo ho scurito, B, C e D e per tanto abbiamo tre ascezze l'ascezze per corregger B di aviut l'ascezze per corregger C di aviut e l'ascezze per corregger D di aviut e l'ascezze per corregger D di sabato